non c'è veramente l'altro e quattro non devi farlo mangiare guarda bene a tutti ragazzi in quest'expo oggi siamo con un nuovo vlog anche se non è un vlog è una nuova challenge e stiamo insieme a Riccardo Dose primo video di questa serie onorato di essere il primo io ho emozionato scusate se non so ancora come strutturare al 100% la challenge però stiamo iniziando questa è una nuova serie e anzi fatemi sapere nei commenti chi altro volete come ospite allora vi spiego un po' al volo se non ci faccio a spiegare faccio finta di non sapere nulla noi dobbiamo scrivere 5 bigliettini a testa con cose sia positive che negative poi li mettiamo qui dentro dentro questa ciotola e dopo le mettiamo dentro le scatole queste scatole qua close up sulle scatole ecco qua sulle scatole con guarda che professionalità la scritta no Rosalba io non so quando scrive ci possono essere dentro cose sia positive che negative e noi le faremo ad esempio posso scrivere posso scrivere dai una capocciata al muro però se esce a me la devo dargli la capocciata al muro oppure posso scrivere bevi un bicchiere d'acqua quindi c'è una sorta di arma a doppio taglio perché non è che posso essere troppo cattivo perché in realtà poi infatti la serie si chiamerà la scatola del destino proprio per questa perché il destino ti sceglierà cose buone o cose negative speriamo positive dai speriamo io me ne vado adesso ok te devi fare io ti lascio in bocca al lupo ti devo dare dei consigli eh sì perché magari tu lo conosci meglio di me quindi che devi scrivere? qualsiasi cosa tipo fai questo di la verità su questo ok ok scrivendo adoro pollemente i video di chiocciola così lo tagga anche social boom ma lo metto direttamente nelle scatole? sì 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 ammai ammai ingurgita 10 crocchetti 10 sei tantissimo no sono un piccolo crocchetti di ing e eni e siamo a 2 ok due fatti fai tipo 10 20 trazioni tanto ci sta la palestra si 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 mangia una cosa che ti fa si una cosa che puoi te infili ok una cosa che tu desideri si rivela alla videocamera le tue ultime ricerche su google ok bello vai bro bro ti accompagni agli altri vai vai sopra ah ho scritto fai 10 pressioni spegni la candela peschiando tagliati la barba e poi altre due che non mi ricordo e vabbè lascialo lo scopri ah la ceretta ah infatti la ceretta è truccati che truccati oh l'hai visto io lo sto imparando allora adesso arriverà riccardo ci gireremo entrambi e casualmente danni van la terza persona che sta lì non so al computer mettere i fogliettini al centro chiama riccardo bro bro scendi scendi abbiamo fatto allora che ti che hai visto chi è stato più cattivo lui giriamoci mischia di nuovo io non devo neanche vedere come hai fatto bro vuoi ma ok hai fatto allora ti sei l'ospite iniziate proviamo il 9 dai perché il 9 il 9 perché era il numero della mia maglia di calcio quando giocavo ok io c'avevo l'11 quindi non prendi ok questo è abbiattino scritto da te penso no da me da me non ci credo e questo è quello più cattivo spero si è il più cattivo no cos'è uscito cos'è uscito è la barba io era barba che bello tanto tutto torna tutto torna il karma gira contro di te non ti preoccupare ho lasciato qualche dichiarazione non posso guardarmi allo specchio almeno dai che cazzo non è che faccio così che bello aspetta aspetta come funziona quanto taglia e mi sai qua non lo so guardami ecco la tua taglia ma usate le forbicine dai ma ragazzo la taglia si vede ovunque no vabbè dai sto cercando di tagliare sulle guance posso fare anche da un trabando di un live mamma mia io non pensavo così tanto io nemmeno ce l'avevo ah comunque mi sono scordato di dire una cosa se non fai la penitenza perdi in automatico ok allora io scelgo il 7 numero di calcio 11 o 7 va bene dipende dalla stagione calcistica non è vero vediamo poi perché mi piace il 7 di chi è la scrittura spero eh non lo so tu mangia una cosa che desideri ma che culo ma che culo ma che culo ma che culo banana non ci credo che desideri in questo momento guarda è pure il frigo pieno di tutte cose vegetariane eh perché la nostra è vegetariana io ok te mangio mangio un'oliva desidero un'oliva adesso sacra sacra desidero un'oliva vai che buono che numero scegli 4 perché è il numero preferito della mia ragazza finora i numeri preferiti mi ha portato solo sfighe quindi vabbè proviamo ok scrittura tua penso sì magari la dg mi ha scazzato una no spero che non sia quella vai vediamo è beneruto non ci credo è quella è quella no io te lo fai una fai una storia su instagram scrivendo adoro follemente i video di social boom vai vai adoro follemente i video di social boom ma proprio così sì sì vai lascia anche un cuore sotto ma sì ma come ti pare decide la metto ora ovvio ovvio vai 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 vediamo vediamo poi se per fine video ci risponde solo il boom se lo vediamo tanto voi sempre attaccato in cerca di qualcuno allora io prendo il numero uno vai uno così perché mi spira l'uno ah questo è mio come fai a saperlo da dove non è vero è tuo esegui 20 trazioni andiamo a farle va bene ma non tutti in una volta qui sono capitati tutte cose che la tipe ha sì infatti no oggi volevo fare tipo come il giorno di pause infatti non mi sono allenato però uno una due tre quattro sedici non mi fa ridere 17 non sei andato tanto giù 18 20 facciamo che le ultime vabbè però sta un po' morendo sì sì ne faccio due te l'ho detto che 20 ne faccio due io sentite questo odore di farina è questa pagnotella qua non vai a cagare 10 10 numero del mio giocatore preferito Ronaldinho vado Ronaldinho ok è suo è mio la scialla oh fammi leggere c'è scritto che vedi rivela in videocamera le tue ultime ricerche su safari vai pesa kebab kebab che è il kebab ho mangiato il kebab jama riparazioni pantaloni di cds quindi ci sono fatto la scialla ci sono questa era facile numero 3 faccia rocca è tua mi sa sì e vediamo io sarei un sia una anzi io ho fatte altre due ancora che devono essere tua truccati trucchiamoci e finiamo il video da truccati dai che bello almeno questo dai cioè dopo la barba ok allora io non è che sono come questi mi devo vedere ma secondo me ti dovrebbe truccare lui sinceramente eh sì ma io non ho mai messo un rossetto io non me lo sono mai fatto mettere di solito te lo metti da solo c'hai capito beh ma è male perché chiudi gli occhi guarda che oh ma si no te l'ha messo quasi perfetto quasi perfetto ti si sbavo solo un po' sopra ma è perfetto perfetto questo lo metto da solo qua dai che cosa è questa una paletta di cosa di ombrecchi come è uscita un po' di più va un po' di più si deve notare no si vede almeno pochissimo poco solo perché non ho uno specchio no no è vero poco si vede sì sì non si vede quasi niente cambia colore cambia colore eh no è proprio niente ma è normale mischia i colori non è che Rosalba si arrabbia scella che colore sta vivendo eh ma un minimo si vede ok perfetto però voglio vederli allo specchio si vedeva tantissimo pure prima raga vai l'ultimo aspetta fammi dire hai anche il sentimento evidente adesso ah bene vai continuiamo andiamo avanti raga due così a caso così a caso ma magari è la mia è la tua è la mia che cosa ma tu sei sì fatti la c'è sì 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 mi ha risposto a social boom mi ha scritto bella bro ridendo e mi ha mi ha ricondiviso la storia che grande ok allora io ho preso sto cioè in realtà è deviladori e viso prova bene basta vuole accadirsi contro la mia barba basta no in realtà è a casa perché sono tipo striscette più piccole ma sembra la bustina di te è la bustina di te no no non lo so non lo so faccio sul braccio eh sì sul braccio però sinceramente non è una cosa io non penso oh io ho trovato ho letto depilatorio ah aspetta no 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 quella è preferita lo sento vado? vai no non fa male ma cosa? non posso? non penso facci male non penso ma hai detto di farlo te la penitenza forse chi l'hai fatta contro pelo c'è pelo contro pelo qua le hai persi molti di più no qua mi ha fatto male infatti di più grazie allora numero 6 vai intanto sono finite cose difficili no la minti che ne sai cosa tu scusi ecco 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 ingurgita dieci cucchie crocchette di king angel no ok vai con la ciocola con lì con la ciocola ma vai si sente che sono burbe dieci non ti ho detto così dante a lui cazzo quanti calorie c'hanno io credo eh dovresti vedere uno una chi non mi sta guardando non è che ci sono degli effetti collettari non ti devi farlo mangiò zitto quattro che schifo ehi mazzi quando spezzare 8 spezzare 9 manda giù dai dai guarda guarda loro vabbè guarda loro che contenti che sono non posso pensare così dai se non ce la fai fermati che schifo lo stesso rumore che fanno le macine quando le mangi pensavo peggio però no va bene ho bisogno di un bicchiere d'acqua ah si fai volai no dai pensavo peggio dai vabbè le ultime due eh le ultime due tocca a me sono le più facili penso dai apriamole insieme io la 5 vai spero che a me esci la no pure a me la mia spegni la candela fischiando non lo so mi faceva ridere cosa vuol dire mi faceva ridere fai 10 flessioni la tua vabbè dai vabbè eh c'è le distrazioni c'hai una due tre quattro cinque sei sette che fenomeno otto nove dieci mamma mia allora basta basta ma che cosa fate in questa casa non lo so che siete allora no no allora no non funziona dai allora questa è quella che ho letto su internet ma che pentenza comunque ragazzuoli noi speriamo che questo video vi sia piaciuto è finito in pareggio ma in realtà qui non c'è un vincitore cioè è solo divertimento allora vi consiglio mangiate le crocchette per cani sono buonissime e niente dai cosa vuoi dire fate l'altro fai tutto faccio tutto io ciao ciao no dai ricordatevi di iscrivervi qui sotto nei commenti appunto chi vorreste vedere come prossimo ospite e mi raccomando andatevi anche a iscrivervi al canale di Riccardo e facciamo arrivare a due milioni di iscritti due milioni di iscritti e iscrivetevi anche al mio per arrivare a due milioni di iscritti grazie ciao 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 Ciao!